Salve merdoni, bentornati sul canale dell'impero del cinema in gergo prettamente locale avevo nel buzzo di fare questa rubrica molto molto tempo fa questa rubrica di consigli è una rubrica dove consiglio dei canali che per me sono ingiustificatamente sconosciuti e che io personalmente adoro e che reputo non solo dei bellissimi canali ma un monito prezioso per tutta la piattaforma di Youtube Italia che rimane sommerso che rimane sommerso veramente nel mare di Matteo HES e robe varie che arrivano a 60.000 iscritti qui si sta parlando proprio di canali ottimi veramente ottimi che clamorosamente scandalosamente riescono ad arrivare a meno iscritti del sottoscritto che non è certamente un gigante sulla piattaforma ho nominato Matteo HES non perché lo segua ma perché diciamo che tramite un mio amico che è appassionato di gente che bestemmia e urla mentre gioca ai giochini quindi un canale di gameplay mi sono ritrovato a guardare questi video vedere 60.000 iscritti e chiedermi veramente cosa ci fosse in questi gameplay di così attrattivo lì però ho capito che comunque il pubblico quello chiede il pubblico quello guarda e quindi crescono questi tipi di canali per me è veramente una cosa non spiegabile con la logica anzi in realtà lo sarebbe però non riesco a accettarlo non riesco a accettarlo e il primo canale che voglio consigliarvi in questa rubrica è i Magi Randagi i Magi Randagi di cui ho già parlato sul canale ma che voglio approfondire in questo video i Magi Randagi nascono come un gruppo che porta su YouTube un format completamente agli antipodi del format in voga maggiormente in voga sulla piattaforma vale a dire il metterci the face i Magi Randagi fanno l'esatto opposto fanno un'operazione di espulsione dell'ego dal loro canale che ha dell'incredibile per me è un'operazione che io ho cercato di fare con Maynard avrei voluto non recitarli io il professor Di Carlo e Maynard avrei voluto trovare l'audio originale dell'intervista e curare solo il montaggio togliendomi completamente dalla cosa non è stato possibile quindi ho fatto del mio meglio per essere soltanto un tool uno strumento alla divulgazione di questa intervista per me stupenda e a cui ho ottenuto molto i Magi Randagi invece riescono nell'impresa al 100% in quanto essendo interviste essendo i loro video delle interviste mirate a dei registi a dei gruppi musicali di nicchia registi molto di nicchia addirittura si va proprio sul naif di super nicchia scavano profondamente nell'indie italiano di allora e di adesso e con ora non so se posso nominare il titolare del canale dei Magi Randagi prima erano un gruppo adesso è rimasto da solo gli ho chiesto se posso nominarlo in video ma non mi ha risposto quindi non lo farò semplicemente perché i primi mesi in cui ho cominciato a seguire assiduamente il canale dei Magi Randagi ho cercato di capire chi ci stesse dietro ma anche parlando con i diretti interessati preferivano non non far uscire fuori il loro nome il loro cognome quindi non lo farò adesso se volete poi lo metterò in descrizione metterò in descrizione dei link che vi aiuteranno comunque a trovare tutti i contatti necessari per poter avere a che fare anche con i Magi Randagi stessi e con il Magi Randagi capo che saluto e che ringrazio è molto presente sul mio canale rispetto a come lo sono io sul suo ma perché ultimamente non sto guardando quasi niente di video sul cinema quindi sono in una fase più produttiva rispetto alla mia fase da utente quindi ritornerà ritornerà quando mi romperò le palle di fare tutti questi video poi ritornerà la voglia di guardare i video degli altri in maniera più sostanziosa la quantità di video all'interno del canale dei Magi Randagi è industriale spaventosa e non è neanche facile portare tutti questi contenuti sulla piattaforma usando il format di prendere spostare il proprio culino a non stare comodo seduto sul proprio divano e andare a fare l'intervista al diretto interessato eliminando addirittura le proprie domande dall'intervista la propria voce si mette solo ed esclusivamente al centro il diretto interessato l'argomento interessato il film interessato o il gruppo musicale interessato o qualunque altra cosa o qualunque film indie a budget zero cosa che hanno fatto vi mostro qualcosa vi mostro qualcosa così molto rapidamente generalmente le interviste sono divise in due o tre video questi due video nemico dell'islam intervista Stefano Grossi è molto interessante non conoscevo Stefano Grossi assolutamente ma comunque sono due video da otto minuti estremamente interessati c'è una lunga serie di video sui film di Luigi Cozzi dove Luigi Cozzi stesso parla della lavorazione degli aneddoti del tunnel sotto il mondo di Star Crash di Hercules di Paganini Horror di Blood on O'Melie's Moon e sono per me questi quattro video cinque scusate infinitamente interessanti per quanto i film di Cozzi siano veramente veramente tantissimo naif e al limite del trash è veramente interessante sentire Cozzi che ne parla anche in modo serio in quanto avevano delle idee vere dietro che poi si sono tradotte in immagini dal dubbio gusto fotorealistico ma che comunque hanno per me un valore artistico come lo hanno anche come lo ha anche per immaginandaggi ma la cosa bella è che parlando con loro di Luigi Cozzi parlando con lui in realtà di Luigi Cozzi nello specifico viene fuori anche il gusto personale di chi ha fatto l'intervista che non viene fuori assolutamente dai video e questa cosa è bellissima perché ti lascia completamente libero completamente libero di ascoltare il diretto interessato di sapere tante piccole cose che danno un senso a cose che altrimenti non l'avrebbero per uno che vede il film punto e basta e che gli danno sostanza gli danno il senso di il senso di interesse vero si vuole anche se anche se il risultato finale è com'è si apprezza comunque gli intenti e l'idea mi rimane in mente non voglio dirvi nulla è bene che le scopriate da soli però ci sono alcuni aneddoti sul video di Hercules di Luigi Cozzi che ascolti veramente così con gli occhi meravigliati e il sorrisone ma sono tutti video che passano dalle 100 visualizzazioni alle 700 cosa per me immeritata ci sono alcuni video da 90 visualizzazioni 70 visualizzazioni 60 ci sono un paio se non di più due o tre interviste a Federico Sfascia regista di I Recchio che io ho visto ai quattro mori al Livorno nella proiezione che fece quando venne qui ero nella sala del cinema con dietro di me nella fila dietro di me c'era Izzo e qui c'era Ladetti più dietro c'era Frusciante con Eleonora chiamarono Sfascia a parlare un po' del film sul palco e si rivelò un ragazzo ci parlo spesso con Federico quindi non molto spesso comunque abbastanza spesso quindi lo saluto e senza fare il lecchino dico quello che penso veramente Federico sul palco dei quattro mori con il microfono in mano si è rivelato di un adorabile incredibile con un'autoironia autodistruttiva però adorabile veramente adorabile e i suoi film Irecchio bellissimo bellissimo nonostante ci fossero stati dei problemi a livello di audio me lo disse anche dopo la proiezione su Facebook per me è stato veramente un'esperienza guardare Irecchio sto aspettando Alienwin scusate Stella Strega per l'amore di Dio sto aspettando Stella Strega ex Alienwin di cui c'è un'intervista anche sul canale dei Magi Randagi quindi non mi fate sfavare e andate tutti quelli io vorrei io veramente vorrei che tutti quelli che vedono questo video prendessero ora e andassero sul canale e mettessero mi piace e cominciassero a vedersi tutti questi video a interagire c'è un'intervista a Luigi Pastore su Violent Shit di come si chiamava quel regista tedesco non ricordo comunque c'è veramente tanta roba troppa roba e ci sono dei video incognita per me tipo questo l'intervista a Davide Ferrario sul suo guardami non so se vedete bene le visualizzazioni ma sono 13.534 i Magi Randagi è un canale con 493 iscritti cioè circa 300 250 a meno di me non va bene non va bene quei 13.000 lì l'hanno visto perché ovviamente gli interessava vederlo perché se no non si arriva a quelle visualizzazioni per quanto basse nel contesto di YouTube non si parla di milioni ma 13.000 visualizzazioni vuol dire che il video ha scatenato interesse non riesco veramente a capire perché un canale come questo cioè in realtà lo capisco se mi immedesimo nell'ottica degli altri di come la maggioranza usa e vede YouTube ma io non ce la faccio ad accettarlo per me è un'ingiustizia che abbiano meno iscritti di me per quello che fanno soltanto per quello che fanno neanche per i contenuti che sono comunque fondamentali soltanto per come portano avanti il canale io sto qui seduto comodo col culo sul mio divanetto e parlo 20 minuti e faccio il doppio di loro no no quindi io veramente spero che mi ascoltiate e che andiate a scoprire questo canale spammatelo come le bestie se potete se vi va non voglio imporvi veramente nulla ma qui c'è veramente uno di quei canali che ora non dico che ha le potenzialità per arrivare a decine di migliaia di iscritti perché per come porta i contenuti su youtube resterà di nicchia comunque ma la soddisfazione a quelli che lavorano a questi video a quello adesso che lavora a questi video di avere un ritorno di feedback giusto per quello che fa è sacrosanto per me quindi spero veramente che mi ascoltiate e che andiate a scoprire quello che per me è uno dei tre canali di cinema su youtube che preferisco in assoluto in ombra in ombra a tutti gli altri quindi recuperate immagini andagi saluto Emanuele non dico il cognome il nome lo posso dire di Emanuele ce ne sono e e di nuovo e di nuovo fatevi un favore immagini andaci buona gente